salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi vi porto sul canale una cosa che mi avete chiesto in tanti che sono curioso anch'io di vedere cioè il range test del power ix diciamo che il drone oggi voleremo in realtà ce sto facendo alcune prove a casa per portarli modalità fcc per avere un riscontro comunque oggi il test sarà in modalità c e quindi in modalità europea adesso decolliamo in questa location che è la location o meglio una delle due location dove faccio normalmente i range test e vediamo come si comporta in modalità c e questo power ix non mi aspetto tantissimo secondo me sarà più o meno in linea con il mavic air una cosa del genere sempre parlando di modalità c e quindi adesso senza perdere altro tempo decolliamo in modalità c e con il power ix in questo range test accendiamo i motori andiamo ad un'altezza di una settantina di metri tanto ci stiamo già anche allontanando ok e allontaniamoci e vediamo il range test di questo power ix come vi dicevo all'inizio non mi aspetto tantissimo è che comunque c'è un wifi classico quindi mi aspetto un wifi o meglio un range test e tipo mavic air in modalità ce cioè sui 500 metri non di più è poi vedremo se riesco a portare le modalità fcc come si comporterà ma secondo me in modalità ce arriverà intorno a quella distanza non l'ho ancora fatto è il primo range test che faccio non ne ho già fatto uno quindi non ne ho idea ma secondo me avendo un wifi classico sarà più o meno quella la distanza che raggiunge siamo quasi a 500 metri infatti vedete che il segnale inizia già a essere con una tacchetta sola anche se il 100 metri vediamo siamo a 600 metri ok trova un ostacolo davanti già a 30 metri di distanza vede gli ostacoli e comunque siamo quasi a 700 metri siamo quasi a 800 metri manca poco vediamo se il gimbal ancora si muove se il gimbal si muove ancora siamo quasi a 900 metri e il gimbal ancora si muove ok il segnale inizia a essere debole di aggiustare l'antenna ci avvisa vediamo se arriviamo al chilometro si siamo arrivati al chilometro direi che possiamo attivare un return to home perché comunque un chilometro in modalità ce direi che più che sufficiente avendo un wifi classico a meno secondo me più di così in ce è difficile che ci possa andare a meno che abbiano un qualcosa di proprietario a livello di comunicazione wifi ma questo drone non ce l'ha quindi secondo me il chilometro di distanza è già tantissimo a mio avviso per un drone che a 2,4 gigahertz in modalità ce non è una zona a zero interferenze perché comunque ci sono un po di casi anche se non è una zona con tante interferenze ovviamente se si fa su mare o in zone di montagna proprio sperdute il range probabilmente aumenta perché le interferenze sono proprio zero però diciamo che non è neanche malissimo dai ovviamente avendo solo la possibilità del 2,4 gigahertz se si va in una zona urbana soffrirà tantissimo l'interferente non avendo la possibilità di farlo switchare a 5,8 è che secondo me è una cosa che in modalità c è molto utile soprattutto nelle zone con un po di case vicine che comunque o comunque in un'area un po urbana dove c'è tante interferenze wifi allora sta arrivando comunque mi ha stupito dovevo dirlo non pensavo peggio anche perché secondo me il come si dice il simbolo del radiocomando va subito a due tacchette una tacchetta ma in realtà il gimbal si muoveva ancora bene avete visto sebbene era lontano quindi secondo me non è proprio corretto le tre tacchette che ha vero che ne ha solo tre quindi sono un po approssimative nel senso che adesso vedete a 100 metri c'ha due tacchette prima era a un chilometro ci aveva una tacchetta quindi se vogliamo proprio stare a guardare secondo me non è proprio giusto forse il diciamo vedete che adesso segna addirittura una tacchetta ed è sopra di me nel senso quindi secondo me da questo punto di vista dovrebbero correggere quello che la grafica perché non è diciamo rapportata a quello che realmente sta facendo il drone quindi adesso sta atterrando aspettate che mi sposto perché sennò se mi vede poi dopo non fa l'atterraggio ok vediamo se arriva sul landing sta arrivando abbasso il gimbal lo vedete lo vado a interrompere perché questa volta ha sbagliato non di tanto vedete dove lo sto tenendo fermo io adesso è solo fatto atterrare e stavolta l'ha sbagliato e non di tanto ma ha sbagliato il landing rispetto al test che avevo fatto che per l'amor di dio ha sbagliato di veramente poco perché se stiamo a guardare ha sbagliato proprio di un niente bastava veramente poco però un pochino stavolta l'ha sbagliato allora adesso spengo il drone e tiriamo le conclusioni su questo range test del power x ok ragazzi il range test è finito secondo me il drone si è comportato bene perché se pensiamo che in modalità c e con un wifi classico quindi non ha un wifi diciamo proprietario nel senso con un sistema di comunicazione tipo qsync cioè ha un wifi classico secondo me arrivare al chilometro in modalità c a 2,4 gigahertz è più che dignitoso anzi secondo me si è comportato bene per le caratteristiche di questo wifi l'unica cosa che mi dispiace che non abbia la 5,8 gigahertz perché comunque in situazioni urbane queste distanze di 2,4 gigahertz ovviamente ce le scordiamo perché in una zona urbana la 5,8 secondo me diventa una frequenza secondo me utilissima da avere per andare a switchare e poter utilizzare il drone anche nelle zone dove ci sono diciamo case un po vicino che emanano tante interferenze al nostro wifi secondo me i droni di questo livello dovrebbero averla tutti ma anche hotel io assoluta 2,4 mentre dj ai a tutte e due le frequenze paro tanafi a tutte e due le frequenze secondo me i droni di questo livello di questa fascia di prezzo dovrebbero averla tutti la doppia frequenza però in questa situazione dove le interferenze sicuramente qua non sono tante si è comportato benissimo secondo me un chilometro tanta roba anche il limbo l'artista si muoveva benissimo almeno fino a 900 metri di ma si muoveva ancora bene secondo me l'unica cosa che secondo me dovrebbero sistemare che lo scriverò agli sviluppatori dell'app e del diciamo del firmware che non corrisponde secondo me in maniera esatta a quello che la grafica ci segna a livello di wifi o meglio di un segnale wifi non corrisponde a quello che è realmente perché comunque ero a un chilometro e avevo una tacca sono arrivato qua sopra di me con tre tacche poi in certo punto è andato ad una tacca poi a due cioè nel senso secondo me quello che viene diciamo visto nella grafica dell'applicazione non corrisponde veramente a quello che è il diciamo il segnale reale perché anche quando mi sono allontanato per fare il range test avessi visto che è andato subito a due tacche e poi le ha mantenute due per tantissimo tempo e poi è andato a una cioè invece dovrebbe secondo me averne tenuta un po di più a tre tacche visto che ero comunque ancora molto vicino comunque sicuramente tutte cose da migliorare a livello di applicazione e di firmware che segnalerò sicuramente agli sviluppatori poi cosa dire il return to home l'ha fatto benissimo avete visto che è tornato in maniera precisa sto giro non ha beccato il landing l'ha sbagliato praticamente di niente perché praticamente i piedini erano contro al bordo nero del landing ma era comunque fuori però va secondo me più che bene anche perché è un drone completamente nuovo quindi ogni dettaglio migliorerà sicuramente questo è veramente un dettaglio perché sto giro l'ha sbagliato proprio di poco mentre avete visto che nel video in cui l'abbiamo testato sotto questo punto di vista l'ha beccato in pieno quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato questo range test in cui il power x modalità c è arrivato a un chilometro vi è piaciuto lasciato un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdermi neanche un video un volo recensione test utoria ciao 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 ciao